Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News e ci occupiamo adesso di cronaca. Altra truffa al mercato ortofrutticolo di Vittoria, la Guardia di Finanza ha denunciato un 57enne di origini calabresi. 9 invece i box truffati. Una denuncia per truffa al mercato ortofrutticolo di Vittoria. Le attività condotte dalla Guardia di Finanza al mercato ortofrutticolo hanno consentito di smascherare un truffatore, un cosiddetto tappista, di 57 anni di origini calabresi. La tecnica di realizzazione è stata semplice. L'uomo ha iniziato ad intrecciare rapporti commerciali acquistando piccole quantità di merce, pagate tutte alla scadenza dovuta. La tempestività dei pagamenti iniziali gli ha subito consentito di acquistare la fiducia dei vari concessionari. Tuttavia, utilizzando la società calabrese di cui era rappresentante regale, ha man mano iniziato a richiedere direzioni nei pagamenti della merce. I nuovi concessionari partiresi hanno continuato a fornire la merce con quantitativi anche più elevati e solo in un secondo momento si sono accorti dell'inadempienza volontaria dell'uomo. In questo contesto sono intervenuti i finanzieri di Vittoria che hanno denunciato il 57enne per truffa. La condotta tenuta era senza dubbio diretta a raggirare gli operatori del mercato, ottenendo un ingiusto profitto. La merce ritirata veniva assolta venduta e il corrispettivo intascato. La truffa, che è coinvolta in qualità di parte offese 9 concessionari dei 74 del mercato, è stata di circa 184 mila euro. La squadra volanti della questura di Ragusa ha identificato in pochi minuti l'autore minorenne di un furto della ricettazione di uno smartphone di ultima generazione. Sentiamo. Gli uomini della squadra volanti della questura di Ragusa lo scorso 3 novembre hanno denunciato un albanese di 14 anni per avere dapprima rubato un telefono cellulare del valore di 700 euro per poi venderlo pochi minuti dopo ad un amico albanese di 16 anni, anche lui denunciato per ricettazione. Il minore è stato denunciato per furto e ricettazione, mentre chi ha acquistato a buon prezzo il telefono è stato denunciato solo per ricettazione. Il giovane aveva rubato un cellulare posato su una finestra, mentre il proprietario stava effettuando dei lavori di bricolage. La vittima ha richiesto l'intervento della Polizia di Stato ed ha iniziato le indagini localizzando il telefono cellulare mediante un apposito programma informatico. I sospetti sono ricaduti su un vicino di casa ed insieme agli agenti vengono visionate le immagini delle videocamere di sorveglianza. Dall'attenta visione si è risalito al minore, che abitava poco distante da casa della vittima. Le immagini sono chiare. Il giovane, approfittando di una distrazione della vittima, aveva afferrato il telefono e si era dato alla fuga. Raggiunto presso l'abitazione degli agenti della volante, il giovane dapprimo nega tutto, poi, vistosi scoperto, ammette di avere compiuto il furto e di avere ceduto il telefono ad un amico. Peccato che alla sua condotta è reato per la legge italiana. Di fatti risponderà del reato di furto e ricettazione, in quanto ha prima rubato il telefono e poi lo ha ceduto ad un altro giovane. Dopo avere contattato chi aveva ricevuto il telefono in pochi minuti, gli agenti hanno proceduto a denunciare anche quest'ultimo, albanese di 16 anni, poiché ha ricevuto un oggetto provento di un altro delitto. E' sempre la squadra volante della questura di Ragusa denunciato a un minore rumeno di 17 anni per lesioni, ingiuri e resistenza pubblico ufficiale. Il ragazzo ha prima aggredito due suoi coetanei e poi si è scagliato contro le forze dell'ordine. Denunciato per lesioni e resistenza pubblico ufficiale, gli uomini della squadra volanti della questura di Ragusa hanno denunciato un rumeno di 17 anni. Il giovane, dopo essersi ubriacato con degli amici nel parcheggio del centro commerciale Le Masserie, ha aggredito due coetanei, re a suo giudizio, di averlo guardato mentre era seduto a terra a bere vino. Nonostante i suoi amici cercassero di fermarlo, il ragazzo continuava a picchiare i due minori prima che riuscissero a fuggire. Il personale del centro commerciale, avvisato di quanto stesse accadendo, si avvicinava al giovane invitandolo a calmarsi, ma nonostante la presenza degli addetti alla sicurezza, questi colpivano ancora le auto in sosta con calce e pugni, sfidando gli uomini adulti a corsi. Gli agenti intervenuti sul posto hanno cercato di calmare il 17enne che si è scagliato contro di loro, colpendoli al viso con pugni e sferrando calce alle gambe. Al fine di arrestare la fure del minore è dovuto intervenire in ausilio un'altra volante, così da bloccare il giovane delinquente. Condotto in questura per gli accertamenti di rito, il minore continuava ancora nella sua condotta criminale, in vendo contro gli agenti e cercando di danneggiare gli uffici, cosa che ha richiesto un delicato intervento di imitazione per riportarlo alla calma. E' stato denunciato per avere dapprima picchiato i due minori che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche del pronto soccorso, con una prognosi di 10 giorni e successivamente per aver commesso il reato di ingiuria e resistenza pubblico ufficiale. Al termine degli accertamenti di rito, il minore è stato affidato alla madre, con l'avviso di vigilare sul figlio. Incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle 14 lungo la strada statale 115 nel tratto Comiso-Ragusa. Un furgone Fiat Ducato si è ribaltato in maniera autonoma invadendo le due corsie. Per fortuna per i tre passeggeri non ci sono state conseguenze gravi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che con l'ausilio di una gru hanno rimesso su strada il mezzo portato via poi da un carro attrezzi. Lungo l'arteria, trafficata in quell'ora, si sono formate lunghe code di auto. Il regolare flusso del traffico è stato ripristinato dopo le 16. Lasciamo la cronaca e cambiamo argomento. È stata inaugurata sabato pomeriggio la 46esima edizione della campionaria nazionale della Fiera Emaia Vittoria. A tagliare il nastro i sindaci di Vittoria e Niscemi e il commissario provinciale di Ragusa. Taglio del nastro per la campionaria nazionale della Fiera Emaia. La 46esima edizione è stata inaugurata sabato da due sindaci Giuseppe Nicosia di Vittoria e Francesco Larosa di Niscemi e dal commissario straordinario Giovanni Scarso della provincia regionale di Ragusa. Insieme a loro il padrone di casa è il presidente della Fiera Emaia Giovanni Denaro. Dopo una passeggiata tra gli imprenditori che espongono all'interno della sala convegni della città della fieristica si è tenuto un incontro nel quale si sono registrati numerosi interventi. Sì, segno di continuità ma anche di innovazione perché la Fiera Emaia da un lato affonda le radici nella sua storia, dall'altro lato innova e si propone ormai come unico ente fieristico siciliano. Siamo contenti di questa apertura, già stamattina girando per i preparativi si vedeva tutto strapieno. Nel venire qui ho trovato tantissima gente che attende di entrare e quindi ci prepariamo una settimana di grande eccezionalità per la presenza di pubblico e per l'opportunità che continuiamo a dare a molti espositori. Per il presidente dell'ente fieristico Denaro, nonostante la crisi economica in cui versa il tessuto produttivo, la campionaria vante al tutto esaurito in quanto a presenza degli espositori. Si ravvisa un incremento del 15%, si attendono da oggi all'11 novembre, giorno di chiusura della fiera, ha dichiarato Denaro oltre 100.000 visitatori. Nel cuore della cittadella fieristica è stata creata un'isola nell'isola, uno spazio riservato agli imprenditori maltesi. È il risultato di un percorso che parte da lontano e che oltre alla collaborazione con Malta vede per il futuro una sinergia con la prestigiosa fiera di tour in Francia. Siamo in aumento del 15% rispetto agli anni scorsi. È chiaro che l'amministrazione della fiera non si ferma perché abbiamo aperto ai paesi del Mediterraneo con una presenza importante delle imprese di Malta. Abbiamo una delegazione ungherese, abbiamo un accordo con la fiera di tour e con le città limitrofi di Gela e Niscemi. Andiamo avanti, non ci fermiamo, non dormiamo sugli allori. Abbiamo preparato da tempo questa edizione proprio per non farci trovare impreparati. È chiaro come diceva il sindaco, diamo il benvenuto all'unica fiera siciliana a tutte le imprese. Le imprese lo hanno capito, coccolano la fiera e trovano il loro collocamento storico su questo territorio. Due gli appuntamenti collaudati inoltre che richiamano visitatori non solo dalla Sicilia. La fiera di San Martino è un treccio di folklore e divertimento e la tradizionale fiera del bestiame che si è svolta ieri mattina. Sempre ieri è stato inaugurato il museo del carretto siciliano intitolato Giovanni Virgadaula. E passiamo adesso alla pagina sportiva. Ci occupiamo di calcio. Domenica Mara per il Comiso che è stato sconfitto in casa dalla Taormina. È andata male anche al vittorio contro il Real Avola. Vediamo. Ancora nulla da fare per il Comiso calcio. Verde e arancio non riescono più a vincere e ieri hanno inannellato un'altra sconfitta in casa contro il Taormina. Mister Borgese deve rinviare ancora l'appuntamento con la sua prima vittoria. A dieci minuti dalla fine un gol realizzato di testa su un'azione da calcio d'angolo ha condannato i casmenei alla sconfitta. Pesanti le estenze in attacco di Cinnirella e Scariolo. Il Comiso resta così penultimo a quota sei punti. È andata male anche al vittorio sconfitto per 1-0 dal Real Avola. I biancorossi dopo la vittoria di mercoledì scorso in casa contro il Mister Bianco puntavano a fare bottino pieno contro una squadra abbordabile. Invece in aspettata è arrivata la doccia fredda. La sconfitta dei biancorossi consente all'avversario di raggiungere la vetta della classifica seppure in condominio con i biancorossi. Taormina, Orlandino e Tiger fanno compagnia infatti al vittorio al comando della classifica con 16 punti. Il Modica pareggia con la 9G a fuori casa 1-1. Il Rosso e Blu salgono a quota 13 ma hanno una partita da recuperare quella contro l'Atletico Gere in casa sospesa per nebbia. In Serie D il Ragusa Corsaro a Palazzolo vince per 1-0. Decisivo il gol di Panatteri al ventesimo del primo tempo. I blei che si mantengono nei piani alti della classifica dietro le favorite. In promozione il Real Ragusa Biscari è perso 2-0 contro lo Sporting Battiati. In prima categoria sconfitta interna anche per la cate calcio 2-1 contro il Priolo. Bene, per questa edizione è tutto. Vi ricordo che potete seguirci pure sul nostro sito free tv online 1.it Vi auguro un buon proseguimento di serata.